Siamo con Fabrizio Bracconeri, ma che ci fai qua? E soprattutto, hai idea di cos'è il Movimento per la Gente? C'ho idea e sono anche iscritto al Movimento per la Gente, perché secondo me siamo arrivati alla frutta, anzi, proprio al conto. E allora questo spirito che ha creato questo movimento credo che sia quello giusto per far rinascere un po' questa Italia che se la so mangiata viva e adesso ci stanno mettendo tutte le colpe a noi, ci stanno massacrando e dobbiamo dire basta. E allora chi è magari un po' più fortunato come io, come me che faccio questo lavoro, che può... Ma qui c'è gente veramente che sa la disperazione, adesso una signora mi ha chiesto 50 euro che non potevo mangiare. E la gente è disperata e non bisogna stare così. Questa gente non lo merita. Fabrizio, quanti anni di forum hai alle spalle? 15 o 16, neanche mi ricordo. Domanda, la legge è uguale per tutti o no? Allora, la legge è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali per la legge, è questa la cosa in cramorosa. Senti voi, ogni giorno in tv mettete in scena, permettimi questo termine, storie più o meno legate alla vita di tutti i giorni. Ti chiedo, secondo te, la legge tutela allora gli italiani? No, tutela solo i politici, perché, scusami, sono un po' raffreddato, dovrebbero, secondo la mia idea, quelli che hanno fatto queste cose, che ci hanno distrutto, cioè a loro non gliene frega niente della gente. Se rubano i soldi, chiudono gli ospedali, tagliano i soldi alle scuole, a loro non gliene frega niente. Ma questi, ma li puoi prendere, sequestrarli tutti e li metti alla disposizione della gente e dagli un bel ventinaio d'anni di galera? Ventinaio non è male. Ventinaio non è male. Senti, in Sicilia si è votato da poco, c'è stato un dato di astensionismo pazzesco, però è arrivato anche il caso di dire alla gente comunque di andare a votare. Bisogna sempre votare perché bisogna ricordarsi che per il voto molti dei nostri parenti, perché erano i nostri nonni, i nostri bisnonni, sono morti, sono ammazzati, hanno lottato per avere questo diritto al voto e in memoria di loro noi dovremmo sempre votare. Poi chi vota conta, anche se l'idea che si è fatta un po' la gente è che oggi anche votare serve a poco, perché tanto sempre come gli pare fanno e a me mi hanno rotto le schiavole, questo è buono fa come gli pare, capito? Grazie. Prego, ciao.